Musica Mi piace il Bahrain, la pista è bella e non ci sono curve tanto difficili, ma è comunque complesso completare un giro in questo circuito, le condizioni possono variare moltissimo a causa del vento, fa caldo a mezzogiorno e di sera fa abbastanza freddo, ma comunque è un bel posto. Forse, ma è inutile iniziare a fare supposizioni, siamo arrivati secondi e questo è tutto, non è andata male, ma sarebbe potuto andare meglio. In un mondo ideale in cui tutto funziona, a volte possono esserci problemi, ma abbiamo un buon sistema, è abbastanza difficile girare sul circuito e alcune vetture possono avere problemi con i freni, ma dipende da come ne gestisci il raffreddamento, se subentrano problemi. Un mondo ideale in cui è passato a fare supposizioni, ma è andata male, ma è un problema. Grazie a tutti.